Applausi 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 Potrei dire moltissime cose e ne dirò poche, una me la consentirete, molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni, molta gente mi ha offerto quello che poteva, per esempio ha pregato per me e io questo non lo dimenticherò mai e questo grazie a questa cara, buona gente dovete consentirmi di dirmi. L'ho detto e un'altra cosa aggiungo, io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono e sono molti e sono troppi, sarò qui, resterò qui anche per loro ed ora cominciamo come facevamo esattamente una volta. Applausi